Terminato questa mattina il tavolo tecnico in prefettura sulla superstrada cilentana dove da alcuni giorni si viaggia a senso unico alternato a causa di un muro potenzialmente pericolante. Erano presenti oltre al sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il prefetto Francesco Russo, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco Stefano Pisani, che è un rappresentante Anci, l'ingegner Nicola Montesano, per Anas, il vice prefetto Roberto Amantea, protezione civile della prefettura. Si è convenuto che non essendo stato riscontrato alcun nuovo movimento a carico del muro che insiste al chilometro 104,500 e che siamo in un periodo dell'anno dove l'assenza delle piogge non aumenta il rischio, entro venerdì 2 luglio la strada verrà riaperta in sicurezza, a doppio senso di circolazione. Nel contempo verrà effettuato un monitoraggio costante anche con strumentazioni tecniche da parte di Anas. Qualora si osservasse un minimo movimento si interverrà nell'immediato, provvedendo alla messa in sicurezza, in caso contrario si provvederà ai lavori dopo il periodo estivo. Ringrazio, ha detto il sindaco Adamo Coppola, il prefetto Francesco Russo e tutti i presenti al tavolo per la disponibilità. L'Anas ha fatto un ulteriore controllo sulla criticità e sul reale pericolo. In questo momento, atteso il momento stagionale, il muro non si sta muovendo e noi faremo un monitoraggio costante, ora dopo ora, per controllare se ci dovesse esserci qualche movimento. Questo ci consentirà naturalmente di liberare una delle due corsie, quindi si ritornerà alle due corsie, proprio perché il controllo costante che metteremo in gambo giorno dopo giorno ci mette in tranquillità. Qualora dovesse esserci un movimento, noi subito lo capiremo e subito interverremo. Invece, se tutto rimarrà tranquillo, rimanderemo poi all'intervento in un momento diverso, quando non ci sarà tutta questa criticità e tutto questo traffico. Agiremo così in maniera molto pratica, cioè il controllo costante della situazione, qualora dovesse esserci qualche criticità, intervento immediato, altrimenti liberiamo le carreggiate e possiamo proseguire in tranquillità.